Brigitte Bardot, la più bella canzone che fosse mai stata immaginata. Erano le 12.30 dell'11 dicembre 1967, un giorno di freddo qualunque a Parigi, quando, mentre tutti i francesi sedevano a tavola, su Europe 1 venne trasmesso un orgasmo stereofonico «Je t'aime, moi ne plus», in cui senza mezzi termini si sentono le voci di un uomo e una donna che mettono in scena l'amore, non quello di due cuori e una capanna, ma quello sessuale, dell'amour physique, l'amore fisico, consumato per una sola notte, rubato da due amanti occasionali. Non c'è dubbio che di quello si tratti, perché la voce femminile dice «Je t'aime, ti amo», e quella maschile le risponde «Moi ne plus, neanche io», un elegante e intrigante botta e risposta preso in prestito da una celebre uscita di Salvador Dalì a proposito di Pablo Picasso. Picasso è spagnolo, anche io, Picasso è un genio, anche io, Picasso è comunista, neanche io, in cui la negazione finale contraddice quella iniziale e si sbatte in faccia al mondo intero che tutto è cambiato, che non serve più il paravento dell'amore per godere l'uno del corpo dell'altra. Sul finire degli anni Sessanta era arrivato il momento di sollevare quel velo di ipocrisia borghese. Il pezzo celava anche un'altra verità, ovvero che tra i due protagonisti, Brigitte Bardot, la seconda persona più importante di Francia dopo il presidente de Gaulle, e il poeta, non bello ma dannato, della musica Serge Gainsbourg, ci fosse ben più di un sodalizio artistico. I due si erano incontrati, o a dire il vero incrociati, nel 1959 sul set di Sexy Girl. Lui era rimasto imbambolato da BB, in una scena del film in cui lei li passava praticamente dritta davanti agli occhi, senza degnarlo di neppure uno sguardo, con una gonnellina midi in tessuto a quadretti, la cintura lacciata a leggendario punto vita, ballerine, top e maniche corte con scollo aperto fino alle spalle, lo scollo Bardot e la vaporosissima Choucroute bionda, con il resto dei capelli che cadevano lunghi e ondulati sulle spalle, insomma un perfetto riassunto dello stile BB. Non si erano scambiati una parola, nel 1967 i tempi erano cambiati, prima del suo debutto come cantante BB aveva iniziato a strimpellare la chitarra durante le riprese dei film girati in Spagna, non aveva smesso di coltivare quella sua passione nei momenti di pace alla Madrag, sotto il chiaro di luna della sua Centrope. Poi, in vita privata, il pubblico aveva assistito ad un'autentica rivelazione, con la chitarra in mano e seduta sul letto, Gilles aveva intonato Sidonie, una ballata adattata da una poesia di Charles Croix, composta da Jean-Marc Rivière e Yannis Panos, che di lì a poco sarebbe diventato il primo 45 giri di una carriera caleidoscopica che non smetteva mai di tingersi di nuove sfumature. Era nata una nuova versione del mito. Quando Serge si rifece vivo nel 1967, proponendole di scrivere delle canzoni per lei, BB aveva già inciso svariati singoli di successo e aveva pubblicato due album, Brigitte e BB. Il risultato è quel primo incontro, dopo l'iniziale timidezza e un paio di calici di champagne, accompagnati da un sottofondo di pianoforte in cui Brigitte intona le prime parole della celebre hit Harley Davidson, fu un prolifico sudalizio professionale e una bollente relazione d'amore. Durante una sera di quei tre mesi di passione e fiumi di Don Pérignon, Brigitte aveva sussurrato a Serge di scriverle la canzone d'amore più bella che fosse mai stata composta. Stregato dalla richiesta magliarda della sua musa, Serge si era subito messo a pianoforte e quella stessa notte venne alla luce «Je t'aime, moi non plus». BB, innamorata di quella canzone, la leggenda vuole che, mentre ascoltava il pezzo, Brigitte fosse nuda, appena coperta da un lenzuolo sopra il pianoforte a coda nell'abitazione di Serge in Rieu de Verneuil e l'uomo seduto a pianoforte, non ci pensarono due volte e il 10 dicembre incisero immediatamente il brano, trasmesso il giorno dopo. Si trattò di un unico passaggio alla radio, tanto bastò per comprendere l'idiglio d'amore tra i due protagonisti del brano e a fare andare su tutte le furie il terzo marito di Brigitte, Gunter Sachs. L'uomo, alto, belloccio, ricco, sfondato e consumato playboy tedesco, era riuscito a far innamorare di lui la diva e a sposarla appena un anno prima. Si erano incontrati in un ristorante dalle parti di Saint-Tropez e lui ne era rimasto abbagliato. Anche Bibi si era lasciata incantare da quel lusso un po' troppo ostentato, tipico di alcuni esponenti del jazz set del momento, i Kennedy, gli Onassis e gli Agnelli di turno, proprio lei a cui del lusso non gli importava poi un granché. Che fosse amore o desiderio di avere al proprio fianco la donna più bella e desiderata del mondo, se non esistesse bisognerebbe inventarla, avrebbe detto Federico Fellini. Gunter l'aveva conquistata con una di quelle trovate da film, facendo cadere da un elicottero una cascata di rose nel giardino della Madrague. Si erano sposati il 14 luglio del 1966 a Las Vegas e la notizia in Francia aveva oscurato le consuete celebrazioni di commemorazione della presa della Bastiglia. Suo marito, che non era certo un santo, non aveva preso bene la prospettiva di migliaia e anzi milioni di dischi in cui sua moglie cantava facendo l'amore con un altro. Ancora prima che «Je t'aime, moi non plus» diventasse la canzone più scandalosa mai scritta, Bibi supplicò Serge di non pubblicarla e sotto il fuoco nemico delle minacce del marito la diva fu costretta a troncare la relazione con Sgesburg. Serge, follemente innamorato di Bibi, acconsentì a ritirare la pubblicazione ma uscì devastato dalla fine della relazione con la donna. Solo due anni più tardi, grazie alla sensuale Jean Berken, l'artista avrebbe di nuovo avuto una musa. La celebre incisione di Bibi sarebbe stata edita solo nel 1986 e la canzone più scandalosa della storia avrebbe insegnato a tutti che può esistere il sesso senza l'amore, il sesso senza la vergogna, anche se nell'uno né dell'altro si era trattato per Serge e Brigitte.